Una pattuglia del nucleo radiomobile carabinieri di Siracusa intervenuta in Vialentini dove una coppia di giovane età con tre piccoli bambini aveva comunicato di stare occupando una casa disabitata da tempo. La coppia da qualche giorno dormiva in auto poiché a seguito di dissidi avuti con i parenti erano stati allontanati dall'abitazione. I carabinieri prontamente intervenuti sul posto rilevavano che l'immobile era in evidente stato di abbandone di degrado igienico sanitario poiché si presentava con parti di intonaco caduto vegetazione anche all'interno delle varie stanze infissi danneggiati o mancanti e numerosissimi escrementi di roditori che praticamente facevano presagire un pericolo per la salute delle persone occupanti. Dopo aver fatto desistere dall'intento alla famigliola i carabinieri hanno segnalato l'accaduto ai servizi sociali del comune di Siracusa al fine di poter dare una sistemazione allogiativa alla giovane famiglia. Grazie a tutti.